affinché l'uomo sappia comportarsi come Dio vuole Dio gli ha dato la coscienza che l'uomo la possa ascoltare ogni volta che ha la necessità di rapportarsi con una scelta equilibrata se l'uomo l'ascolta vive come Dio vuole ogni volta che l'uomo sceglie di ignorarla ottiene immancabilmente un risultato disatteso l'uomo che non ascolti la propria coscienza è ubriaco di sola ragione grazie